Con l'accoglienza ci giochiamo tutto. Il santuario è realmente uno spazio privilegiato per incontrare il Signore e toccare con mano la Sua misericordia. È la riflessione offerta da Papa Francesco ai partecipanti al Giubileo degli operatori di pellegrinaggio e dei rettori di santuari ricevuti in Aula Paolo VI. Nel corso dell'udienza il Pontefice ha rimarcato che l'accoglienza è determinante per l'evangelizzazione perché a volte basta semplicemente una parola, un sorriso per far sentire una persona accolta e ben voluta. Chi decide di compiere un pellegrinaggio vive una spiritualità personale, non di massa, e nel solco di una storia millenaria porta con sé un desiderio speciale, una preghiera particolare, di fondamentale importanza dunque che si senta da subito accolto, compreso e sostenuto sia sul piano materiale sia su quello spirituale. È un'accoglienza del tutto particolare quella che offrono i ministri del perdono di Dio. Il santuario è la cassa del perdono, dove ognuno si incontra con la tenerezza del Padre che ha misericordia di tutti, nessuno escluso. Chi si accosta al confessionale lo fa perché è pentito, è pentito del proprio peccato, sente il bisogno di accostarsi lì. Persepisce chiaramente che Dio non lo condanna, ma lo accoglie, lo abbraccia come il padre del figlio prodigo per restituirli la dignità filiale. i sacerdoti che svolgono un ministero nei santuari devono avere il cuore impregnato di misericordia. Il loro atteggiamento deve essere quello di un padre.